Sì, sì, l'italiano, ma io non te sei. Tu mi senti? Devo rifà? Rifo, per te? Aspetta, levati la roba, allora... Le cozze. Le cozze. Devo ricordarti che questa è Radio Italia, solo cose che italiana, ma ti ringraziamo per questo maggio internazionale. Ai token ads di David Byrne. Complimenti, non era facile. Questa sua schiena ci ha comprometto in Italia. Allora, vogliamo raccontare velocissimamente il po' di... Come abbiamo fatto lì di sera? No. Questo rimane un segreto che avete detto, Marco, no. Vogliamo raccontare com'è stato questo debutto a Londra, a casa Italia, all'Olimpiade. Maraviglioso. Vero? Nottevole. Domani vado a giocare al tennis. Ok, domani si va a giocare al tennis e andiamo direttamente a Winkley. No, non si riesce a fare il film, ma io... Aspetta che provo... No, no, è tutto. Allora, se tu gli scosti stanno così, se tu li metti così, stanno così, se tu li metti... No, cosa? Fantastico. Eppure sono veri, sono assolutamente veri. Io volevo, Marco, fare un applauso ai pazzi e alle pazze che hanno preso un aereo per venire a posta dall'Italia. Io volevo ringraziare tutti i miei amici presenti e chiederti, per favore, un corruposo viso per il nostro gruppo. Mi chiediamo... Tu, batterista, c'hai un... un sgrulla... Asciugamano! Mauro! Vide! Sai che schifo ci attacchiamo i vecchi bambini? Sì, pensi... Rock e roll! Senti, mi chiediamo... Senti un po' che rock e roll! Mamma mia! Siamo pronti? No! No, non so. Ma se non sei pronto, non sei pronto, cioè nel senso, se tu dici sono pronto, io sono pronto. Cioè, iniziamo a cattare, se no vi metto a dire un paio di cazzate, come faccio al solito, e allunghiamo un po' a... Vieni, il brodo. Buono da mangiare qui, eh! No, allunghiamo, l'Italiano è così. Se chiamano... Two Italian Food and Wine. Buono da mangiare qui! Buono da mangiare qui! Buono da mangiare qui!